Maglio, questa mattina una bellissima iniziativa sul lungomare di Corotone da parte dei giovani democratici, la donazione del sangue che come sappiamo è molto importante. Sì, è il secondo anno consecutivo che facciamo questa iniziativa, alla fine i ragazzi fanno politica ma vogliono con gesti semplici dare il proprio contributo, aiutare le persone. I microcitemici, i talassemici hanno lanciato un appello, hanno invitato i cittadini ad andare a donare, noi oggi abbiamo cercato di aiutare i cittadini a donare con grande comodità. Com'è la risposta dei cittadini? Nonostante l'orario, comunque in vacanza alle 8 del mattino non è semplice, c'è una fortissima affluenza, siamo già a 25 sacche, penso l'automoteca ne può trasportare 32, penso che dovremo anche mandare qualcuno indietro. Però spero di ripetere l'iniziativa perché si può dare la dimostrazione che con dei gesti semplici si può fare qualcosa di importante. E soprattutto che l'unione fa la forza. Sì, l'unione fa la forza ma in particolare ci sono tanti ragazzi e ragazze a Corotone che vogliono solo essere coinvolti nei progetti, nelle iniziative. Cerchiamo di farlo ogni giorno, speriamo di riuscire a fare qualcosa di importante. Oggi siamo qua, speriamo di essere qui anche per qualcos'altro.